Noi ti adoriamo, oh Gesù, tu pur essendo figlio di Dio, non facesti valere la tua uguaglianza con Dio, ma omeriassi te stesso, facendoti obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E per questo Dio ti ha esaltato e ti ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome, e davanti a te ti piega ogni ginocchio, in cielo, in terra, in ogni luogo, e ogni lingua confessa che tu sei il Signore. Oh Signore, noi ti adoriamo nella tua obbedienza e nella tua umiltà, e per questo proclamiamo il tuo nome, che al di sopra di ogni altro nome, e pieghiamo le nostre ginocchia e diciamo Tu solo sei il Signore, tu solo sei il Signore, tu solo sei il Signore, oh Gesù, tu sei diventato il Signore sulla croce, là fosti coronato re, quando ti crocifissero, come detto, Dio ha cominciato a regnare dalla croce, dal legno, regnavi all'igno Deus, e dal legno ti è cominciato a regnare, e tu hai detto, quando io sono innalzato e coronato sulla croce, allora attirerò tutti a me. Gesù il tuo trono è la croce, è là che sei stato coronato, re del mondo. E noi ci postiamo davanti a te sulla croce, e ti adoriamo, Signore dell'universo. Tu hai vinto nella croce le potenze del male, la tua croce svetta, tu sulla croce domini il mondo, perché hai vinto la morte, hai vinto Satana, hai vinto il peccato, tu sei il vittorioso, là sulla croce, oh Gesù. che qui nel sacramento dell'altare, hai rinnovato il mistero della croce, oh Gesù morto e risorto, presenti in quest'ostia, noi ti adoriamo, e ti proclamiamo re nostro. Ci mostriamo davanti a te, e ti diciamo, ogni lingua si piega davanti a te, e proclami che tu sei il Signore, a gloria di Dio Padre. Amen. Siete tutti ben disposti davanti a Gesù. C'è Gesù qui davanti a noi. Fratelli e sorelle, pieghiamo le ginocchia davanti a Lui. Lui solo merita di essere adorato, e Lui il Signore. Però per stare davanti a Lui, bisogna purificarci dei nostri peccati. Il suo sangue deve scendere su di noi, in purificazione dei nostri peccati. Chiediamo al Signore il perdono dei nostri peccati. Diciamo, oh Signore, noi ti abbiamo crocifisso. E vogliamo guardare a te. Noi, che ti abbiamo crocifisso. E che continuiamo a crocifiggerti, nei nostri fratelli, con i nostri peccati. Oh Gesù, noi ti crocifichiamo ogni giorno. Noi ti crocifichiamo ogni giorno. E qui davanti a te, ci prostriamo. Tu rivivi nei molti fratelli. Tu rivivi nei nostri fratelli. Tu rivivi in chiunque credi in te. Tu rivivi in chiunque credi in te. Signore, noi abbiamo peccato. Noi abbiamo peccato. E ti chiediamo perdono. E ti chiediamo perdono. Vogliamo guardare a te. Vogliamo guardare a te. A colui che abbiamo crocifisso. A colui che abbiamo crocifisso. A colui che crocifiggiamo ogni giorno. A colui che crocifizziamo ogni giorno. Perdonaci, oh Signore. Perdonaci, oh Signore. Ecco, dal Salmo 32. Leggiamo. Ti ho manifestato il mio peccato. Non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto, confesserò al Signore le mie colpe. E tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Per questo ti prego ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Tu sei il mio rifugio. Mi preservi dal pericolo. Mi circondi di esultanza per la salvezza. E Signore rispondo. Ti farò saggio. Ti indicherò la via da seguire. Non siate come il cavallo e come il mulo privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie. Se no, a te non si avvicinano. Gioite nel Signore ed esultate giusti. Giubilate voi tutti i retti di cuore. Grazie, Signore, per questa parola. Tu hai mostrato la guancia a colore che ti schiaffoggiavano, come agnello mansueto venivi portato al macello. Però, per tutti noi, tu hai patito, hai portato il peso dei nostri peccati. Ma il Padre ti ha dato una ricca discendenza e sono questi discendenti che cantano la tua gloria. Signore, noi che siamo stati guariti per le te piame. Noi che siamo stati esaltati fino ai cieli, perché tu ci hai portati fino ai cieli con te dopo averci perdonati. Signore, noi che ti adoriamo, qui, postati portermi, e ti diciamo tu solo sei il Signore, tu solo sei l'Artissimo. Allora, gloria, onore e benedizione a te. Tu ci hai detto un'altra parola. Tu con gli umili sei umili, ma con gli arroganti sei severo. Tu ci hai detto che gli arroganti sono trattati come animali, con le briglie e con i morsi. appunto perché si erano sottomessi a te. Signore, dacci discernimento. Fa che noi trattiamo i nostri fratelli con grande amore. Quelli che si umiliano, li trattiamo con grande amore. Quelli che fanno come i cavalli bizarri. Oh, Signore, che mettiamo morsi e briglie. Perché si umiliano davanti a te e riconoscano che tu solo sei il Signore. Davanti a te si deve piegare ogni ginocchio. Tutti i ginocchi della terra devono piegarsi davanti a te e riconoscere che tu solo sei il Signore. Signore, usa tutti i mezzi perché tutti ti riconoscono, Signore, e fa che noi usiamo tutti i mezzi perché tutti piegano davanti a te i ginocchi. E ti proclamano che tu solo sei il Signore, l'unico Signore. Oh, Gesù, siamo qui davanti a te questa sera, questa mattina, e ti vogliamo pregare insieme con tutti quelli che ti adorano in tutto il mondo in questo momento. Ma ti vogliamo pregare per quelli che non ti adorano in questo momento, Signore, noi vogliamo essere un cuor solo, un'anima sola. Signore, io ti presento tutti quelli che sono venuti dalla loro casa, tutti quelli che hanno lasciato la loro famiglia. Ti presento tutti quelli che sono venuti da lontano, hanno lasciato il loro paese, la loro città, e sono qui per adorarti. Sono qui per chiedere grazie, Signore, non lasciarle a mani vuote. Ma fa che essi si presentano a te, portando doni a portare, cioè i doni dei loro peccati, della loro sofferenza, della loro richiesta. Tu hai detto non presentarti davanti al Signore a mani vuote. Oh, Signore, noi ci presentiamo davanti a te, con i nostri peccati, con le nostre imperimità. Ma con il nostro amore, con la nostra devozione, con la nostra omiliazione, con i nostri sacrifici, sofferti per te. Sono questi i doni che ti offriamo, Signore, cambia la nostra sorte. Signore, ti chiediamo controllazione questa mattina, ti chiediamo guarigione questa mattina, ti chiediamo rivelazione questa mattina per i nostri fratelli. Signore, ma per noi ti chiediamo umiliazione davanti a te, perché è nell'umiliazione che noi ci congiungiamo a te e diventiamo grandi in te. Signore, gloria e gloria a te, oh Signore. Signore, ci suggerisce la conclusione di questa preghiera di leggere un testo della lettera di Paolo e Romani, fratelli non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù non c'è nessuna condanna per noi perché in Cristo Gesù il peccato nostro è stato sconfitto è stato distrutto però questo comporta per noi di vivere non più sotto il domine della carne ma sotto il domine dello Spirito dal momento che lo Spirito di Dio abita in noi se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo non gli appartiene ecco l'amorimento che ci viene dal Signore se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo se qualcuno non vive nello Spirito Santo e non produce i frutti dello Spirito non appartiene a Cristo l'appartenenza a Cristo non è dettata dal Battesimo ma è dettata dallo Spirito che riceviamo nel Battesimo se è presente in noi ed opera siamo di Lui se non è presente in noi ed opera non siamo di Lui e se Cristo è in voi il vostro corpo è morto a causa del peccato ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio costoro sono i figli di Dio i figli di Dio sono quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio nella mente i pensieri nei sentimenti col cuore nella santità della vita nel corpo quelli sono i veri figli di Dio gli altri non gli appartengono e voi non avete ricevuto uno Spirito di schiavi per ricadere nella paura ma avete ricevuto uno Spirito di figli adottivi per mezzo del quale crediamo Abba Padre lo Spirito stesso attesta al nostro Spirito che siamo figli di Dio e se siamo figli siamo anche eredi eredi di Dio o eredi di Cristo se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare così alla sua gloria fratelli e sorelle la partecipazione alla sofferenza di Cristo è il segno che siamo di Lui chi non partecipa alla sofferenza di Cristo non dà il segno dell'appartenenza a Lui e non può sperare di essere partecipi della sua gloria pertanto come Paolo diciamo io mi gloria nelle sofferenze che porto nel mio corpo questo non ci viete di chiedere che il Signore ci guarisca delle nostre inferimità però ricordiamoci del valore enorme della sofferenza che è il marcio di appartenenza a Cristo chi non ha sofferenze non porta il segillo di Cristo ma chi ha la sofferenza porta il segillo di Cristo portiamolo con cerezza questo segillo ma chiediamo al Signore che ci renda possibile il cammino dietro di Lui che allevi le nostre sofferenze che gradisca il nostro sacrificio legittimamente preghiamo gli uni per gli altri perché il Signore nella prova ci sostenga e perché gradendo la nostra prova ci trovi eletti in Lui per la gloria o Signore Gesù siamo qui noi siamo fieri di portare la Tua sofferenza il tuo marcio il tuo segillo ma ti preghiamo Signore Gesù gli uni per gli altri perché Tu allevi le sofferenze ti preghiamo gli uni per gli altri perché Tu ci liberi dal marcio del maligno che è la malattia Signore Gesù ti offriamo tutte le malattie in questo momento te li consegniamo tutti o Signore le malattie del corpo le malattie dalla carne e così le malattie dello spirito le malattie dell'anima te li presentiamo tutti o Signore perché tutte le notte malattie siano assorbite in Te che sei la resurrezione e la vita e ti preghiamo di camminare con Te nelle tribolazioni di questo mondo senza più tentennare ti chiediamo di camminare con Te verso la Patria Celeste o Gesù ti accettiamo come sei qui in me a noi accettaci oggi fu come noi siamo e fa che adorandoti questa mattina la Tua luce scenda su di noi la Tua grazia scenda su di noi e guarite nello spirito in Te possiamo cantare le Tue lodi amico e allora fratelli e sorelle adesso finito questa prima parte se c'è qualcuno che voglia ringraziare il Signore per qualche dono ricevuto per qualche parola che ha colpito il suo cuore per qualche grazia avuto dal Signore facciamo volentieri questa testimonianza per la gloria di Lui e per cementare la nostra fe di Lui è il momento di rendere testimonianza chi vuole ringraziare il Signore questo è il momento ecco questa è una sorellina che ha pregato in questa comunità una sua parente ha avuto sua figlia ha avuto un'intervento a cuore con le preghiere di questa comunità è stata guarita e qui è un cuore in argento che porta ed è la figlia di questa questione bene quella mamma porta il cuore che è stato il cuore che è segno di una guarigione operata da Gesù al cuore della figlia era un'operazione difficile ma il Signore ha operato e la figlia è salva grazie signore grazie grazie intanto annunciamo un'altra guarigione al cuore alla valvola mitralica di una persona di una donna e annunciamo ancora che le coronarie di un uomo vengono visitate dal Signore e da un grande cioè un grande solievo oggi come se il Signore lo rinnovasse signore a proposito di tumore il Signore tocca la gola tumorata di una persona il Signore tocca anche l'enfisema polmonare di un'altra persona in entrambi i casi il Signore avvia un processo di guarigione signore tocca il pancreas di una persona dove c'è una ciste e ringraziamo il Signore perché il Signore sta operando poi c'è una persona che ha una ciste all'occhio e il nervo ottico è un po' intaccato il Signore tocca questo occhio sinistro di questa donna e la ciste scompare piccolissima ciste e il nervo ottico si mette a posto occhio sinistro di una persona di una donna se la persona è presente alzi la mano esatto di una piccola ciste all'occhio sinistro di una donna che è proprio poggiato sul nervo ottico intanto a proposito di maternità c'è questa parola esulta tu che non partorisci partorirai il Signore ti concede questa notte di rimanere incinta un po' il mondo sta guarendo ti dice il tumore il Signore va a sentire a questa persona un grande peso che adesso a poco a poco svanisce e sento una grande leggerezza si tratta di una persona che ha il polmone offeso e sotto cura ma in questo momento sento una grande leggerezza al polmone che si sta curando e il Signore che innesta un processo di rapida guarigione si tratta di una persona con male al polmone il Signore tocca una rotola una persona che ha un po' di acqua alla rotola il Signore tocca e guarisce il Signore tocca una scapola la scapola destra di una persona la persona che sentiva grande dolore alla scapola destra proprio in questo momento non sente più niente se la persona è presente alzi la mano grazie Signore Gesù un dolore accoccige di due persone dolore accoccige il Signore tocca e in questo momento non tentano più niente se le persone vogliono identificarsi possono identificarsi e ce n'è un'altra grazie Signore Gesù ti ringraziamo Signore di tutte queste guarigioni che stai operando ci sono altre o Signore che tu stai facendo in questo momento perché è una giornata buona per noi ti preghiamo per il Signore di aumentare la nostra fede aumentare la nostra fede perché è attraverso la fede che la richiesta si fa più intensa e tu guarisci le persone che gridano a te vorrei dirvi che ci sono diverse persone che hanno che hanno cisti in questo momento c'è una ciste alla mammella una ciste una donna e una ciste a scellare e una ciste a scellare tutte e tre il Signore tocca e si guarisce nella sala viene questo messaggio che il Signore sta toccando l'osso del racchio del filistro e tutta la gamba ti sento un beneficio che viene corretto nel tuo movimento ringraziamo anche di questo il Signore le diciamo il Signore di tutte le altre guarigioni man mano che il Signore dovesse ancora manifestare queste guarigioni non crederemo ma anche tante guarigioni non annunciate vengono operato ugualmente perché il Signore è qui questa mattina intanto cominciamo a leggere le suppliche al Signore Signore ti preghiamo per alcune categorie di persone innanzitutto diciamo che il Signore sta mandando un angelo al civico a svegliare una donna che è intumbata e i medici hanno raccciato nel Signore la sveglia proprio oggi e allora il Signore fa un appello a persone che hanno il vizio del fumo che nuoce loro ora ci sono persone che finora non hanno un grave danno dal fumo anche queste sono invitate a liberarsi ma ci sono alcune persone che hanno danno dal fumo il medico ha detto di non fumare e persevere ancora nel fumo il Signore il Signore li invita a deporre subito le loro sigarette e il loro accendino qui davanti all'altare perché il Signore li vuole salvare e fisicamente e spiritualmente poi c'è una persona che ha ancora dei tarocchi a casa carte di tarocchi questa persona è invitata a disparsi dei tarocchi e a smettere una buona volta poi ci sono due persone che hanno il vince del gioco uno dei cavalli e una delle carte e si stanno rovinando e allora il Signore invita a liberarsi dalle carte e non fare più scommesse così in questo gioco ippico perché si stanno rovinando queste persone sono invitate ad ascoltare oggi la voce del Signore ancora ci sono due persone che hanno nel parto voglio una protezione se le liberano non sono protezione ma sono aggeggi o tarismani o sacchetti che procurano male procurano male per cui sono pregate queste persone di liberarsi una da sacchetto rosso dal sacchetto vigio e l'altro dai tarismani sia di pergamena sia anche un tarismano in metallo per cui gli aspetto qui al tavolo tarismano in pergamena tarismano in metallo un sacchetto grigio è un sacchetto rosso e adesso fratelli e sorelle invochiamo il Signore su di tutti benediciamo il Signore di quello che ha fatto il Signore sblocca la digestione di una persona blocca un blocco intestinale e favorisce la digestione di tre persone il Signore poi sta toccando il colon offese di una persona ma ci sono tante altre piccole operazioni che sta facendo il Signore benediciamolo e portiamola adesso in processione e qui mi dice Nelì che ha delle parole di conoscenza c'è un'astrosa la colonna vertebrale il colon che è stato annunciato il fuoco di Sant'Antonio e poi quello dei ginocchi è stato annunciato comunque resta di annunciare il fuoco di Sant'Antonio alle spalle di una persona Signore tocca e guarisce adesso ci mettiamo tutte in piedi e invochiamo la Madonna la Madre nostra tutto quello che è stato operato questa mattina è stato per intercessione di Maria nostra Madre e adesso mentre ringraziamo Maria invidiamo ancora la sua materna intercessione io sono il Dio della vita dice il Signore tu o donna hai pensato di toglierti la vita sono io che ti dico vivi perché io sono con te non temere a due donne il Signore dice tu vuoi abortire non non macchiarti di questo orrendo delitto tutta la tua vita sarebbe compromessa porta avanti la tua gravidanza io sono il Signore della vita e salverò il tuo bambino sia under il tuo Dio sia benedetto benedetto il suo santo nem benedetto il suo santo nem benedetto Gesù Cristo vero Dio dell'altare. Benedetta Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la Sua Gloriosa Assunzione. Benedetta il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe Suo Castissimo Sposo. Benedetto San Giuseppe Suo Castissimo Sposo. Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. Benedetto il Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.